Nel decimo municipio, questa notte, come vedete dalle immagini, un violento temporale accompagnato da fulmini e raffiche di vento si è abbattuto su tutto il territorio allagando puntualmente le nostre strade. Dalle ore 23 alle 1.30 di notte si è scatenata quella che possiamo chiamare la tempesta perfetta. In pochi minuti si è rovesciata a terra tantissima pioggia, mista a grandi nei collampi che hanno illuminato a giorno la notte. Quasi tutti i quartieri del decimo municipio sono stati coinvolti con strade allagate, tombini intasati e allagamenti addirittura nelle case. Ancora una volta, ha spiegato Gaetano Distaso dell'associazione Salviamo Ostia Antica, si è avuta la conferma di quanto poco si è stato fatto per mettere in sicurezza i cittadini di fronte agli improvvisi cambiamenti meteorologici. Le situazioni più gravi vengono proprio segnalate in via Lugli e via Teloni ad Ostia Antica dove l'acqua ancora una volta è entrata nelle abitazioni. I cittadini addirittura ci hanno raccontato di aver chiesto aiuto alla CEA e alle istituzioni, al Comune, ma nessuno è ancora intervenuto.